In una delle ultime puntate del celebre show America's Got Talent, il numero di una stuntman canadese prevedeva di essere colpito dalla propria ragazza con una freccia infuocata scoccata da una balestra. Però qualcosa va storto. Crissangela è molto conosciuto per i suoi trucchi di magia estremi. Durante uno dei suoi spettacoli decide di tentare il numero dalla fuga dalla barra di vetro di acqua, ma questa volta il trucco non li riesce. In una trasmissione romena si sta esibendo un mago nel gioco del chiodo, ma questa volta a rimetterci la mano sarà proprio lui. Durante il classico gioco della valletta rinchiusa nella cassa e poi spezzettata in varie parti, sembra che accada proprio un incidente inaspettato. Infatti purtroppo la donna perderà la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La tica di vetro, uccidendolo, soffocandolo. Grazie a tutti. Bene ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se in tal caso mettete un bel like, commentate e iscrivetevi e noi ci ribicchiamo con un mio prossimo video che uscirà molto molto presto. Ciao ragazzi.